E ci dica, signorina, lei è stata sempre così bella, anche da ragazza? Oh no, da ragazza ero piuttosto bruttina, tanto che i miei decisero di farmi studiare. Frequentai così tre anni di scuola media, ripetendo per guadagnar tempo, finché a sedici anni migliorai fisicamente. E questo le permise di abbandonare gli studi e di darsi alla prostituzione. Sì, infatti, dunque possiamo dire che anche lei ha dovuto lottare per affermarsi. Grazie. Grazie.